Ciao a tutti e a tutti, bentornati e bentornati in un nuovo vlog. Sì, vi faccio vedere me con i capelli bagnati, era da un po' che non li facevo vedere, anche se è vero che non li sopporto più. Allora, niente, praticamente vi racconto il fatto che sono stata un po' in giro con mamma, perché organizzavamo diverse cose per una cosa. E niente, praticamente è successo poi anche un po'... no, anzi, in realtà ieri mattina siamo andate a fare la spesa, a comprare le ultime cose prima di un progetto che stiamo facendo. Poi, vabbè, ieri pomeriggio sono andata da nonna, perché vabbè, mamma aveva da fare, quindi nulla. Ieri io e mamma abbiamo ritagliato anche delle foto di nonna, che poi tra l'altro cerco di prendermi la colla, oltre a quello nulla. Dobbiamo sì, comprare della colla che serve, tipo quella Inail, tipo quella tubetto, non so se avete presente. Quindi nulla. Io, a parte questo, non vi racconto nulla di che, a parte che ieri dovevo farmi la doccia e tutto, però non avevo avuto fisicamente al tempo. Quindi niente, io vi saluto, ci vediamo tra poco con il video di oggi, sì, scusatemi perché mi sono mezzo tagliata un po' dovunque, ma quello è normale. Ciao!